Ed eccoci a Castel Gandolfo. Siamo appena entrati nella città e qua c'è il lago. Aspetta, c'è stata la rotonda. Ancora non si vede però... Ecco, si dovrebbe vedere ora. Azzumbo. Cazzule. Vabbè, non si vede tanto bene per ora. Quella è la residenza papale. Grazie a tutti. Guardate un po' che bello qui. Grazie a tutti. Allora noi stiamo tornando a casa. E per tornare a casa col navigatore ci siamo fatti proprio tutti i castelli romani. Ci siamo fatti. Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Frascati, Ariccia. E abbiamo preso una porchetta e i panini per pranzo. E abbiamo preso un po' che.